eccoci qua purtroppo la serie di video che stai seguendo non è ancora terminata sto lavorando costantemente per produrre altri video altre lezioni e altri progetti iscriviti subito al canale per ricevere una notifica appena uscirà il prossimo episodio ti ricordo che su questo canale vengono sviluppati dei veri progetti di meccatronica vengono pubblicate delle vere e proprie lezioni scolastiche compresse in 10-15 minuti per darti le basi sull'elettronica la fisica l'informatica la meccanica la geometria dunque su tutto quello che concerne la meccatronica e dalla teoria passeremo anche alla pratica condividi i video che trovi su questo canale nei tuoi canali social perché alcuni dei tuoi amici potrebbero trovare molto interessanti le mie lezioni e i miei progetti e potrebbero addirittura diventare dei partner dei collaboratori e aiutarmi a sviluppare i progetti questo potrebbe dare loro molta visibilità e trovare addirittura nuovi clienti proprio come è successo a me ti ricordo che mi trovi su youtube su linkedin su instagram su facebook e su cam tv ti ringrazio per avermi seguito fin qui ci vediamo alla prossima nel frattempo che aspetti l'uscita di un nuovo video ti invito a sfogliare il mio canale per vedere se c'è qualcosa che ancora non hai visto ti saluto ti mando un grande abbraccio ciao 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 ciao